Tutte le armi aggiunte con la nuova mini patch 29.01 su Fortnite Ma prima mi iscriviti a 7 nello shop se non ti ritroverai un bagno nell'epic Iniziamo subito con la nuova catena di Ade Ottenibile ovviamente killando il boss Ade Per poi passare alla nuova Drum Gun Di cui abbiamo ben 4 realità Rara, epica, leggendaria e mitica Quest'ultima si potrà tenere killando il boss Mida che si trova allo yacht E sarà acquistabile anche nelle macchinette sparse in giro per la mappa Ed infine la bolla scudo Seguimi e taggo un amico per farglielo sapere